Musica 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 Hola ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Poki e oggi siamo stati qui su Teppen3 La scuola sapato abbiamo fatto gli Hashimitsu Oggi invece faremo Mina Musica Ok ok caspita che combo Grazie a tutti Sono riuscito da dietro ma almeno sono riuscito a colpirla Ok Dannazione Ok 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 Benissimo Ok Ah vabbè se vedete che a volte è l'acca Ok Ok Ah vedete che a volte fa quella mossa Stiamo dicendo se vedete che a volte fa quella capriola lava Se non prende l'avversario ti dica la faccia a terra e ci aggerete È volevi Anche Anche Ok È un po' strano però è un po' strano perché con gli ascivizi non ho affrontato King Ah se riesce Ok 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 Ok. Ok. Stannaccione. Uh... Te l'amassцию. ciao Alla prossima Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ma perché salti? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Comunque nel livello 9 si affronta sempre gli altri! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!